Rinnovato il rito del Saluto dei Santi in piazza Plebiscito a Lanciano, quando le tre statue del Cristo Risorto, della Madonna e di San Giovanni lasciano la Cattedrale della Madonna del Ponte e rientrano ognuna nella propria chiesa di appartenenza. Si chiudono così le celebrazioni della Pasqua in città. Il rito è molto partecipato dai lancianesi che si riuniscono in piazza, sistemandosi a mo' di cornice e attorno alle statue che a turno si salutano. Comincia San Giovanni che saluta dapprima la Madonna e poi il Salvatore con un inchino, quindi si avvia a fare ritorno verso la chiesa di Sant'Agostino nel quartiere storico di Lanciano Vecchio. La statua di Maria, a sua volta, si inchina davanti al figlio risorto e poi si avvia verso la chiesa cosiddetta del Purgatorio a Corso Roma nel quartiere storico Borgo. Infine, la statua del Salvatore, scortata dal sindaco Filippo Paolini e dal vice sindaco Danilo Ragneri, si avvia per fare ritorno alla chiesa di Santa Maria Maggiore, riaperta due settimane fa al culto dopo i lunghi lavori di restauro. Grazie a tutti!